Quest'anno le aziende straniere hanno investito in Serbia circa 4 miliardi e 500 milioni di euro. Un risultato leggermente migliore rispetto all'anno scorso, abbastanza perché il governo serbo possa vantarsi delle cifre record e del suo modello economico in vista delle elezioni parlamentari anticipate di domenica. I sussidi per la creazione di posti di lavoro e un generoso sistema di incentivi fiscali per le aziende attraggono in Serbia i due terzi degli investimenti esteri nei Balcani. Anche se spesso criticata da Bruxelles per non aver imposto sanzioni alla Russia o per l'accordo di libero scambio con la Cina, la Serbia non ha incassato note di biasimo da parte degli investitori per le buone relazioni di Belgrado con Pechino e Mosca. Mi najviše izvozimo na tržište Ruske Unije, Rusija nije veliko tržište, ono jeste ogromno tržište, ali u našem, kažem, portfolio izvoza ne čini neku veliku razliku, ali na jedan način taj mislim da je više značeno ova otvorena Serbia ka Čudima koji dolaze, koji nece, koji beže, jednostavno situacija u koje se Rusija našla, kru se ovo i ovdje imposto je novi dom. La maggior parte degli investimenti in Serbia proviene dall'Unione Europea, ma anche dall'Asia, soprattutto dalla Cina. Questi sono anche i mercati verso i quali la Serbia esporta maggiormente, insieme ai paesi dei Balcani occidentali.